Siamo al raduno del Vespa Club Bologna, del 2 luglio raduna nazionale. Abbiamo il piacere di avere con noi, a completo la famiglia Malossi, il nostro sponsor da quest'anno. Andrea Malossi ovviamente. Alessandra Malossi. Ciao io sono Fabio, tecnico Malossi. Sta nascendo una collaborazione con il Vespa Club Bologna. È partito tutto da mio nonno che aveva una piccola officina di riparazione di biciclette. Mio padre ovviamente in tenera età ha iniziato a prendere dimestichezza con biciclette e poi è saltato sulle moto, la preparazione, i motori e poi mi ha attaccato la febbre a me e a mia sorella che insomma siamo entrati in azienda già in età proprio da Vespa perché io a 16 anni il mio primo veicolo era la Vespa, un Pix. E ancora oggi ci dilettiamo e cogliamo l'occasione di presentare in questa occasione degli amici del Vespa Club Bologna, la nuova Vespa allestita con i colori ufficiali dell'azienda. Dietro non si vede un P200 anche lì con la nuova marmitta che presentiamo proprio in questa occasione. Nonostante i veicoli hanno più di 30 anni ancora oggi l'azienda sta investendo e crede in queste manifestazioni. Chi vuole qualche componente per migliorare il veicolo è manutenere perché oggigiorno questi veicoli hanno già una certa età e hanno bisogno di particolari per poter permettere agli appassionati del club di fare lunghe distanze senza avere dei grossi problemi. Oggi stiamo organizzando questo bellissimo evento, Vespa Raduno nazionale città di Bologna, la piazza si sta riempiendo, gente che arriva un po' da tutta Italia. Abbiamo i principi e gli sponsor qua oggi che ci ha dato una mano nella gestione e nell'allestimento dell'evento e la collaborazione sicuramente è iniziata molto bene e proseguirà in futuro. Tra una mezz'oretta partirà il giro, li accompagniamo un po' per alcune vie del centro e poi saliremo sui colli e facciamo vedere un po' il paesaggio della nostra bella città. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! Grazie a tutti! Ciao!